Ciao ragazzi sono Crax, bentornati su Blast Team Gaming. Ma che cosa ci faccio qui? Tranquilli posso spiegare, non sono un hacker. È nata una collaborazione che mi permetterà di caricare un video a settimana su questo canale, ovvero nascerà una vera e propria rubrica di Clash Royale gestita da me. Tanta roba, attenzione però, perché questi video sono completamente esclusivi, non verranno ricaricati nel mio canale principale, quindi iscrizione e like fondamentali fin da subito. Già che ci siete, seguitemi su Instagram perché lì vi terrò aggiornati costantemente sulla pubblicazione, e programmazione degli episodi. Detto questo, benvenuti su Clash Royale. Quest'oggi siamo nell'account della mia ragazza, il mio secondo account. Per quale motivo? Perché voglio cominciare questa serie di video andando ad utilizzare l'ultima carta rilasciata dalla Supercell. Una carta leggendaria davvero fortissima. Una carta che mi fa screare un tot perché sono riuscito a vincerla e a sbloccarla tramite la spida in quest'account, mentre nel mio account principale ancora non sono riuscito a trovarla. Sono messo male, sto parlando del Fantasmino Royale, che eccolo qui, ancora con la scrittina, con lo stemmino di carta nuova. La vado ad introdurre subito nel mazzo al posto del Cavaliere e andiamoci a giocare delle battaglie classificate qui nell'arena elettrica. È davvero tanto tempo che non ci gioco. Siamo pronti, yes, ne facciamo due, cerchiamo di vincere, cerchiamo di guadagnare trofei per Franci. Sicuramente sarà molto soddisfatta, anche se non gioca più a questo gioco da circa un anno. Ma sono dettagli, ho messo subito gli arci retti da dietro, siamo contro un livello 9, stranamente in vantaggio. La Witch di livello 5, non mi dite ragazzi il gigante con la strega subito, così cominciamo davvero male la mia serie su Blast Team. Il Domatore a livello 8 va a torre con dietro i pistrelli, ma non riesce. No, vabbè, qualche hit lo fa. Va benissimo, ci butta una Tesla, cercando di fare del danno interessante alla Valkyria. E la Valkyria, ragazzi, ha un disastro di vita. Va a sprecare il Minatore e siamo partiti piuttosto bene. Lo mettiamo, Fantasmino Royale sulla sinistra, il Fantasmino Royale per il momento è OP. Non so sinceramente se lo andranno a nerfare, molto probabilmente sì, perché è presente in qualsiasi deck meta. Su tutti quanti i deck in top c'è il Fantasmino Royale. È onnipotente, in questo caso è riuscito a farmelo fuori semplicemente con un'orda di scheletri. Ma tranquilli, perché io riparto subito con il mio Domatore e Pipistrelli, che vanno a torre. Ha sprecato la Witch sulla sinistra e il Domatore picchia di brutto, distruggi subito quella torre. Ciao nella torre, con i Pipistrelli riusciamo addirittura a far fuori il Minipekka. Cioè, meglio di così non si può. Arci retti da dietro, ci basta semplicemente difenderci e forse abbiamo vinto. Ma sicuramente abbiamo vinto questa battaglia. Ma io non mi accontento, io non mi accontento al 100%. Voglio fare le tre corone per iniziare al top. Fantasmino Royale, Domatore, abbiamo anche la Zap per l'eventuale. Orda di scheletri che verrà sicuramente posizionata e me sento male. Rage Quit subito, Rage Quitato così. Che spettacolo, distrutta la seconda torre. Distruggiamo anche la terza, mettiamo gli arcieri ovviamente, diamogli una mano. E ci portiamo a casa le tre corone, top. Vai Fantasmino Royale, colpiscilo con quella spada. Distrutta anche la torre centrale, riesco a zappare. Prima battaglia andata, rapida in dolore, ne facciamo subito un'altra. 30 trofei per noi, baulo argentato. Niente di eclatante. Seconda battaglia. Se riesco, prova ad arrivare a 3500 trofei. Questa volta a livello 10. Attenzione a livello 10, voglio partire subito. Lo prendiamo in contropiede. Non si aspetta questo push sulla sinistra. Domatore Pipistrelli, cattivissimo. Va sulla torre e invece se l'aspettava perché ha messo addirittura l'orda di sgherri. E io ragazzi mi sono difeso, non male. Quello che viene dopo. Buona la zap. Però qualche hit, molto probabilmente lo prendiamo. È forse molto pesante. Vai Spiritello di Ghiaccio, salvaci in corner. Siamo alla pari, anzi sono in svantaggio. Molto, molto male. Proviamo a ripartire subito o aspettiamo? Ma io ripartirei subito. Sì, 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 Pipistrelli è domatore. Tutta la vita. Sulla corsia di sinistra, orda di scheletri. A queste coppe l'orda di scheletri va fortissimo perché è veramente forte. L'unico modo per farla fuori è una zap immediata. Quel bombarolo, se non erro, dovrebbe colpire la torre qui. Uh, fireball. Mi invita a nozze. Così mi inviti a nozze. Ciao ai barbari di livello 12. Li salutiamo Isi. Mi ha fatto guadagnare un tot di liserra. Ci butto gli arcieri dietro. Vorrei ripartire con il Fantasma Royale ma non abbiamo ancora il mana. Dobbiamo aspettare il per due di liserra. Olè, arcieri messi. Tac, posizionati proprio ora. No, le frecce no, maledetto. Perché mi butti le frecce? Uh, scarichetta tattica. Ottimo così. Ripartiamo con una bella combo di Fantasma Royale. È domatore, però lui sicuramente metterà i barbari. No, mette gli scheletrini. Ma attenzione a quella combo. Devastante. Vai Fantasmino Royale, vai a torre. Peccato perché ha poca vita. Ma un hit? Forse anche due. No, un hit solo lo fa. Ho sprecato i pipistrelli perché era l'unica mossa possibile. Rimette i barbari, quindi vado di arcieri. Oh, fantastica l'arena elettrica. Quando vai in per due escono fuori questi barbari che vengono anche curati e sono anche a rischio. Una bella zap qui per togliere subito gli spiritelli. Vado con i pipistrelli e via. Di Hog Rider. Si riparte. Cattivissimi. Un bellissimo spiritello messo completamente a caso perché mi ha messo le frecce. Ma guardate quel Fantasma Royale che toglie gli scheletrini. E il domatore non riesce a tirare giù la torre. Ce la stiamo giocando. Non vorrei fare un fail, eh. Sfera infuocata. Via subito. Lorda Disgherry. Arriva una Fireball. Arriva una Fireball molto interessante. Ma ragazzuoli con lo spiritello riesco a colpire i barbari che in combo con la zap. Facciamo fuori e ci portiamo a casa la torre di sinistra. I cinque secondi sicuramente non riuscirà a prenderci una torre. Fantasmino così. Swaggato. Grande battaglia. Dai così che siamo in feed positiva. Ne facciamo un'altra perché la prima era di bonus. L'ho startata. Yes. Siamo dentro. Livello 10. Lo hariamo. Mano iniziale che ci permette di partire subito. Vado con il domatore. Ha messo anche il boy a destra. Molto probabilmente questo l'ha tornato. E se l'ha tornato sono dei danni. E infatti... No. Principe? Che mazzi strani. Logicamente siamo a basse corone. Può succedere di tutto. Però ragazzi c'è un problema. C'è un grosso problema perché io non ho il cavaliere. Sono abituato a difendermi con il cavaliere. E attenzione a cui i goblin sono costretti a zappare. Vai fantasmino. Cattivissimo. Targhetta la torre. Un'altra volta lorda di scheletrici. L'hanno veramente tutti. È una carta che hanno assolutamente tutti quanti. Vado con lo spiritello difensivo. Togliamo tutti gli sgherri facilmente. Potrei ripartire. Però lui si difende con il principe. Non è che sia una mossa ottima. Ma io amo il rischio. Vai domatore sempre sulla sinistra. Che salta il ponticello di cavi. E colpisce. Come se non ci fosse un domani la torre. Forse la tiriamo giù. Forse con un hit non ce l'ha fatta. Che peccato. Sono costretto a mettere sia il fantasmino e gli alber. Prendermi l'hit del principe. E non se l'è preso l'hit del principe. Perché ragazzoli. Ha colpito la tesla. Ma con i pipistrelli. Riusciamo a difenderci tranquillamente. Ma non ci posso credere. È arrivato comunque un colpo del boia. Ma che spiga. Ho distrutto il barile goblin. Ma non abbiamo il mana per piazzare il domatore. Vediamo se vanno a torre indisturbati. No. Non ci vanno. Non ci vanno mai. E allora non mi rimane altro che andare a torre con il domatore. E zappare l'eventuale orda di sgherri. Giù la torre ora. Presa la torre. Ciaone. Che devasto. Tesla difensiva. Vieni giù principe. Ti sto aspettando. Spiritello del ghiaccio. Questa volta dovrei riuscire a congelarlo. Non è vero. Non è vero. È riuscito comunque a fare un'ottima mossa in combo di Fireball. E mamma mia ragazzi. Che rischio. Che rischio. Quel fantasmino royal difensivo. Vai fantasmino. Voglio portarmi a casa le tre corone pure qui. Ma qui sarà molto molto più complicato. Arrivano gli sgherri. Vado di zap. Perché c'è anche lo spiritello. Se zappavo un millesimo di secondo. Dopo prendevo pure l'orda di scheletri. Ma che spiega il solito grax. Il solito grax. Puliamo tutto sulla parte di destra. Fantasmino royal. Ma tranquilli. Perché ci portiamo a casa. Un'altra volta. Una vittoria. Che rischio. Questo fantasmino royal mi sta facendo davvero sussultare. Vai domatore. Vai domatore. Hit importantissimi. Ottima la zap. Con i pipistrelli togliamo gli sgherri. E non riusciamo a farne due. Per un capelleno. Ma sono contento. Tre vittorie per iniziare al top questa serie. Ragazzi. Tanti pollicioni all'insù. Se volete altri episodi. Detto questo. Tre bauli argentati. Che schifo. Abbiamo sfruttato il fantasmino royal. Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Cosa ne pensate di questa nuova carta. Che sta introdotta oramai da un paio di settimane. Ma sono dettagli. Per me è nuova. Perché ancora. Ripeto. Non ce l'ho nel mio account principale. Abbiamo anche sbloccato una missioncina top. Vi ricordo. Un bel like. Un commentino qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Che sarà sicuramente la prossima settimana. Un salutone. E un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.